Il lavoro che abbiamo presentato in questo concorso riguarda un intervento di riqualificazione in un contesto di centro storico a Dovindoli, un comune della provincia dell'Aquila, oggetto di intervento antisismico innovativo. Questo sistema è molto semplice, comporta l'inserimento all'interno di una scatola muraria esistente, preventivamente svuotata, di una struttura autoportante in X-Lam. Questo che cosa conferisce all'intervento? Un'innovazione dal punto di vista della tipologia dell'intervento e quindi dà la possibilità di poter effettuare interventi di agopuntura all'interno di centri storici sparsi in tutta Italia. Abbiamo visto spesso edifici abbandonati che possono essere recuperati con questa tipologia di intervento. Inoltre questo che cosa conferisce? Conferisce contemporaneità perché nello stesso momento in cui io conservo la memoria e l'identità dell'edificio storico, perché ripeto siamo in un centro storico, porto comfort, porto antisismicità, quindi porto sicurezza, utilizzo materiali ecosostenibili come appunto il legno Islam e quindi tutto per portare a un risultato di efficientamento energetico in sicurezza in un contesto che ripeto è molto delicato perché siamo a Dovindoli in provincia dell'Aquila e sappiamo bene cosa di recente è successo nella provincia dell'Aquila.